Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Profile di Yu-Gi-Oh! Bene, dato che ho fatto l'unboxing qualche giorno fa del mazzo Horda Zombie, ho comprato il 3x del mazzo, l'ho messo insieme e vediamo che cosa viene fuori. Ci tengo a precisare che questo qui sarà solamente il mazzo con 3 structure, quindi non ci saranno aggiunte particolari. Poi magari in futuro ci metterò qualcosina di mio. Comunque, vediamo l'extra re che comunque è composta da due Dragonero Zombie Occhi Rossi, comunque ne parleremo più tardi, e passiamo subito al primo 3x che è Red Destino Baderdroc. Il boss monster del mazzo rispetto magari a quello che potrebbe essere la Tana dell'Oscuita, adesso io faccio un po' di paragoni col mazzo vecchio perché comunque è un mazzo su cui ho puntato molto, a volte per anche di quello. Rispetto all'Ear of Darkness questo ha un po' meno di attacco 2008 ma ha degli effetti molto più utili. A parte il fatto che finché c'è una terreno sul campo, quindi che sia sia nostra che dell'avversario, questo ritorna ogni stand-by face, quindi sia nostra che dell'avversario questo ci torna in difesa. Se abbiamo tra l'altro un nostro mondo zombie sul terreno, noi una volta per turno, una volta per catena, possiamo utilizzare uno di questi effetti, che possono essere utilizzati solo una volta in quel turno. Possiamo annegare l'effetto di un mostro zombie che attiva il suo effetto, oppure possiamo bandire un mostro dal terreno oppure nel cimitero. Quindi è veramente molto forte, possiamo fare un meno uno importante all'avversario, bandirlo o carta sul terreno problematica oppure anche dal cimitero che magari il nostro avversario vuole recuperare, inoltre annullare gli effetti di un mostro molto molto utile. Quindi 3 per, questo assolutamente d'obbligo, anche perché si può tirare fuori abbastanza facilmente. Poi, 1 per drago zombie occhi rossi. Questo si può evocare tra un tributo evocando in posizione d'attacco, offrendo a un tributo un mostro zombie, quindi non è un'evocazione speciale, ma possiamo tirarlo fuori in svariati modi che poi vi andremo a vedere. Quando questa carta distrugge un mostro zombie in battaglia e lo manda al cimitero, può evocare specialmente quel mostro zombie, quindi facciamo un meno uno e un più uno per noi, molto forte. Ci piace. Abbiamo poi due Banshee Necromondo. Questo è un po' simile a quello che è l'arima del Leil of Darkness, ma un po' differente. Questa, finché è sul terreno, finché c'è il mondo zombie e questa carta sul terreno, mondo zombie non può essere distrutto dalle effetti delle carte e non può essere scelto come bersaglio. Quindi, molto utile se ne abbiamo un mondo zombie, già in mano possiamo giocarlo, poi per difenderlo giochiamo Banshee Necromondo. Oppure, possiamo mandare questa carta dal terreno o dal cimitero per attivare un mondo zombie. Molto semplice. Possiamo utilizzare questo effetto di Banshee una sola volta per turno, però è molto molto utile. Lo giochiamo però in due per perché comunque l'effetto suo non è come quello di Arima. In parte è quello, ma no, non esattamente. Perché Arima, a differenza di Banshee, può essere scartato dalla mano per farci prendere la terreno. Banshee invece ci costringe o evocarlo o mandarlo al cimitero. Il che può essere utile, ma non è perfetto, ecco, secondo me. Poi abbiamo due Tetsu Necro. Adesso qui si passa un po' ai mostri tuner. Il Tetsu Necro è un mostro tuner zombie che ci permette di fare un asincro con questo mostro e un mostro zombie che abbiamo in mano, praticamente, con la differenza che poi dovremo andare a bandire i mostri utilizzati per l'asincro evocazione. Però è molto forte. Ricordiamo però che questo effetto può essere utilizzato solamente se questo mostro viene evocato normalmente o posizionato. Quando sta per essere utilizzato un materiale asincro, un mostro nella tua mano può essere utilizzato per uno degli altri materiali. E poi non può evocare specialmente altri mostri che siano mostri zombie. Quindi abbiamo questa restrizione. La maggior parte di questi mostri hanno questa restrizione. Quindi per le giocate Link talvolta può essere un po' problematico. Scusate. Raffreddore. Ok. Poi. Altra tuner. Unizombi. Stavolta in Pepper. Molto forte anche questo. Soprattutto per gli effetti che ha. Che ci permette di scartare carte. Per aumentare i livelli di un mostro zombie. Scegliamo il bersaglio. Un mostro scoperto sul terreno. Scarta una carta. Che abbiamo in mano. Quindi possiamo mandare mostri come ad esempio Baldrock. O altri. Che non ci servono. Che non vedremo più tardi dalla mano al cimitero. Oppure anche Banshee. Aumentiamo di un livello. Il mostro che abbiamo scelto come bersaglio. Puoi scegliere come bersaglio appunto un mostro scoperto sul terreno. I mostri dei controlli non possono attaccare per il resto di questo turno. Eccetto i mostri zombie. Inoltre manda un mostro zombie dal tuo deck al cimitero. E se lo fai aumenta di un livello il livello ancora di un altro mostro. Quindi possiamo scartare una carta dalla mano e una carta dal deck. Per aumentare di due praticamente il livello di un mostro zombie o gli altri. Possiamo anche farlo aumentare di se stesso. O possiamo anche farlo aumentare al nostro avversario. Perché non c'è nessuna restrizione. Un mostro scoperto sul terreno. Quindi può anche essere un mostro avversario. Molto buona per mandare carte dal cimitero a un zombie. Utilissimo. Ovviamente si può... Puoi utilizzare ogni effetto di un zombie o soltanto per uno. Però possiamo utilizzarli entrambi il turno stesso. Quindi è perfetto. Poi tre perdi fioritura luminosa. Anche questa è molto forte. Questa è un'altra di quelle carte che con un zombie potremmo mandare al cimitero. Questo perché... Se questa carta viene mandata al cimitero puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e aggiungi un mostro zombie livello 5 superiore dal tuo deck alla tua mano. O se mondo zombie in una zona terreno puoi invece evocarelo specialmente dal tuo deck. Quindi molto buono. Inoltre in ogni caso non puoi evocare specialmente mostro per il resto di questo turno eccetto mostro di zombie. Puoi utilizzare questo effetto di fioritura e noi non sono solo la volta per il turno. Però è veramente forte anche questo. Quindi con un zombie possiamo mandare questa al cimitero. E poi se abbiamo... Oppure possiamo bandare... Tendenzialmente mandiamo fioritura e... Se l'abbiamo è Banshee. Banshee la bandiamo ci fa aggiungere... Un mondo zombie. Bandiamo fioritura luminosa. Cerchiamo il nostro zombie che vogliamo e con 5 stelle di ospedione lo vogliamo specialmente. Quindi... Veramente ottimo. Poi abbiamo il nostro cercatore di tuner. Shiranui solitario. Allora. Puoi offrire come trevuto un mostro zombie. Evoca specialmente uno tuner zombie con difesa 0 dal tuo deck. Se questa carta viene mandita puoi sceglieremo il bersaglio. Uno dei tuner mostri Shiranui. Vabbè. Non abbiamo altri Shiranui accetto lui. Quindi la sua onda parte non importa. Però è utile perché offriamo come trevuto uno zombie. Possiamo anche, ne so, magari offrire Banshee o qualsiasi altra cosa. E ci evochiamo un tuner per poi farci il nostro drago. Molto molto utile. In questo è il tre per. Poi. Tre per di Gozuki. Forte anche questo. Ha svariati effetti molto molto utili. Se rimane sul campo questo. Durante la tua main phase puoi mandare un mostro zombie dal tuo deck al cimitero. Se questa carta viene mandata al cimitero. Puoi bandire un mostro zombie dal tuo cimitero eccetto Gozuki. E evoca specialmente un mostro zombie dalla tua mano. Puoi evocare, puoi usare ogni effetto di Gozuki una sola volta per turno. Molto forte. Quindi lo evochiamo. Possiamo mandare un mostro zombie dal deck al cimitero. Poi quando viene mandato dal cimitero. Possiamo mandare un mostro zombie. Quindi eccetto questo. E poi scegliere un altro mostro zombie. E evocarlo specialmente dalla mano era. Sì. Quindi molto molto utile questo. Sia per le vocazioni sia per le vocazioni. Questo è fondamentale e ci cerca ci manda al cimitero. E' come una sepultura shock aggiuntiva praticamente. Molto utile. Anche il 3x di Mezuki. Sebbene molti lo giochino in 2x. Però io per ora mi sto trovando molto bene con il 3x. Puoi mandare questa carta al tuo cimitero. Puoi scegliere come bersaglio un mostro zombie al tuo cimitero. O specialmente quel bersaglio. Quindi ora averci solo lui al cimitero ovviamente non ci comporta molto. Però ci aiuta a fare numero e evocare appunto altri mostri dal cimitero. Molto molto utile. Lo mandiamo magari con Gozuki o con altro. Dipende dalla mano che abbiamo. Ultimi mostri del mazzo sono 3 tartaruga piramide. Quando questa carta viene distrutta in battaglia. Evochiamo specialmente un mostro zombie con difesa 2000 o inferiore dal tuo deck. E abbiamo tutti i mostri di un 2000 o inferiore praticamente. Quindi non ci sono problemi. Molto forte. Ok abbiamo finito con i mostri. Adesso passiamo alle magie. E ovviamente non può mancare il mondo zombie in 3 copie. Tutti i mostri di zombie sul terreno e nei cimiteri diventano mostri zombie. Nessun giottore può evocare tramite tributo. Eccetto mostri di zombie. Ora tramite tributo in pochissimi mazzi ancora evocano tramite tributo. Però a volte può succedere che sia necessario. Ricordo il mazzo monarca per ora è l'unico mazzo che adesso mi viene in mente che ancora utilizza questa meccanina di tributi. Però non viene quasi più utilizzato. Poi due richiami della mummia che sono fondamentali se li troviamo di prima mano è veramente ottimo. Una volta per turno puoi evocare specialmente un mostro zombie dalla tua mano. Non devi controllare nessun mostro per attivare e risolvere questo effetto. Però è molto utile. È una cartologia continua che il nostro avversario comunque deve starci attento perché sennò possiamo evocare quello che vogliamo. Quindi sia mondo zombie che richiamo della mummia sono delle magie che il nostro avversario vorrà toglierci. Poi abbiamo lotta per il potere zombie in due per. È un'altra magia rapida. Non mi è capitato molto spesso di utilizzarla però ci permette di riciclare anche molti zombie che andiamo a bandire. È molto utile. Il ciò mio bersaglio è un mostro zombie sul terreno fino a fine di questo turno. Guadagna mille di attacco oppure lo perde quando abbiamo un mondo zombie. Possiamo far perdere mille a uno zombie avversario. Durante la tua main phase se questa carta è nel tuo cimitero puoi mischiare nel deck uno dei tuoi mostro zombie banditi. Se lo fai posiziona questa carta ma bandiscila quando lascia il terreno. Puoi utilizzare questo effetto di lotta per il potere una sola volta per turno. Quindi molto utile. La utilizziamo, andiamo a rimuettere nel deck uno zombie bandito e ce la riposizioniamo per utilizzarlo il turno dopo. Ottimo. Ci permette di riciclare e di non finire troppo in fretta alle risorse che abbiamo bandito. Abbiamo poi un 1 per di necronizzazione zombie. Questa è un po' lentina da partire perché se sul terreno c'è un mostro zombie di livello 5 o superiore e scegli come bersaglio un mostro entrato dal tuo avversario, prendi nel controllo fino all'end phase. Quindi se sul terreno in generale, eventualmente se abbiamo già mondo zombie, il nostro avversario c'è un mostro 5 stelle e lo possiamo prendere praticamente. Non entra al tuo main phase. Se questa carta è nel tuo cimitero, puoi mischiare nel deck uno dei mostri zombie banditi e se lo fai posizionare questa carta, va bandita quando lascia il terreno, così come quell'altra va bandita quando lascia il terreno. Puoi utilizzare solo un effetto di necronizzazione zombie per turno e solo una volta in quel turno. Quindi anche questa è limitata a una volta per turno, però è molto utile anche questa. Poi, ultima magia, uno per il sepoltura sciocca, mandiamo un mostro dal deck al cimitero, possiamo giocare solo uno ovviamente. Passiamo poi alle magie, abbiamo due metaverso che ci permette di cercare la terreno e se vogliamo di attivarla, metaverso è molto buona, la possiamo utilizzare appunto durante il turno avversario perché nel turno avversario magari possiamo attivare la mondo zombie e poi abbiamo magari una magia lotta per il potere zombie ad esempio, la possiamo attivare, molto utile. E poi, quando ho fatto l'unboxing mi ero messo un po' a ridere, però effettivamente molto utile Nido degli scarafaggi, pungiglione, scarta le prime 5 carte del deck al cimitero e dato che il nostro mazzo si basa molto sul cimitero, mandare le prime 5 carte del deck al cimitero è molto buono. Quindi queste sono le trappole e poi abbiamo ovviamente i draghi necro zombie occhi rossi che è molto molto forte, si fa molto facilmente, questo se fatto dopo 2-3 turni diventa un spaventoso perché col mondo zombie tutti quanti i mostri diventano zombie sul terreno e nel cimitero e questo va a 100 attacchi per ogni mostro zombie sul terreno e nei cimiteri, quindi sia nostro che quello dell'avversario. Quando un mostro zombie poi viene distrutto in battaglia, va a fare specialmente un mostro zombie da qualsiasi cimitero sul tuo terreno. Quindi dice quando un mostro zombie, quindi ancora una volta si può applicare quando c'è un mondo zombie se noi attacchiamo un mostro terzario attiviamo il suo effetto, cioè se noi distruggiamo un mostro avversario che è zombie con il nostro mondo zombie noi gli prendiamo un mostro dal cimitero. Possiamo utilizzare questo effetto solo una volta per turno però ovviamente. Però è veramente veramente molto forte ragazzi. Questo mazzo mi è piaciuto tanto e devo dirla tutta, mi è piaciuto molto molto. Lo devo ancora testare a dovere, poi farò delle mani di prova nel prossimo video. So anche che ho fatto la profile dell'Error Darklands con i Darklord, ma non gli ho fatto vedere le mani di prova perché poi è uscito questo mazzo e ho voluto dedicarmi a questo. E tra l'altro questo mazzo di l'Error Darklands con i Darklord non mi ha soddisfatto appieno nel senso che ci sono delle modifiche che si possono fare di cui vi parlerò magari nel prossimo video se siete interessati perché comunque è un mazzo molto divertente, non è un mazzo competitivo quello però rispetto al, come vi ho detto, all'Error Darklands con la Zandria di Critias è molto meno competitivo secondo me, meno controllo, hai meno possibilità di tributare. Però ci sono delle modifiche che vorrei apportare, anche perché purtroppo l'Extra Deck come vi ho detto non era completo, non lo è neanche adesso perché non ho più comprato l'arte per quello mi sono dedicato al mondo zombie, al mazzo zombie scusate, quindi non ho portato grandi modifiche. Però, intanto io ragazzi che scozzo il mazzo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video in cui farò qualche mano di prova. Bye bye! Ciao! Grazie.